C'è chi sogna lo scudetto? No, bisogna stare molto calmi, bisogna aiutare molto Montella ora, piedi in terra, partita dopo partita, perché solo così potremo arrivare a grandi traguardi. Stagione difficile, perché la squadra si rinnoverà per l'ennesima volta per tante unità, e quindi bisogna stare intorno alla Fiorentina, poi i problemi e tanto tifo. A me mi piace, mi fa impazzire il Presidente. Grazie Presidente, il Presidente ha fatto un capolavoro. Andrea trasmette genuinità, oggi vederlo in campo felice in quella maniera è stata una cosa devastante. Lui e Diego, io ho sempre creduto in loro, anche nei momenti difficili, hanno promesso e hanno mantenuto. Al giorno d'oggi è difficilissimo trovare persone di parola, quindi chapeau alla famiglia della Valle che ha regalato questo momento di grande gioia. E penso che oggi sia mancato solo, ma lassù ci guarda, il grande Mario Ciuffi a mettere la maglia a Mario Gomez. Però sono sicuro che Mario ci assisterà per tutto l'anno.